L'argomento di questa video lezione è l'applicazione dei teoremi di Euclida e Pitagora per la soluzione di semplici problemi geometrici. Questi problemi geometrici sono stati già impostati come esercizio guida e comportano la soluzione di un'equazione di secondo grado. Nell'esercizio guida è rappresentato un triangolo rettangolo in cui i cateti sono in funzione della X. Quindi per esempio il cateto AC è X-2, il cateto AB è un mezzo di X. L'ipotenusa è nota. Ricordiamo subito che i valori relativi ai cateti debbono essere maggiori di 0. Quindi AC, essendo espresso da X-2, dà già come vincolo alla X il valore maggiore di 2. Quindi X deve essere maggiore di 2. Per la risoluzione applichiamo il teorema di Pitagora nella forma che vedete qui segnata e sostituendo otteniamo quindi un'equazione di secondo grado. Le due soluzioni non sono entrambe accettabili ma solo la prima perché la seconda è negativa e noi abbiamo detto già che le nostre X debbono essere maggiore di 2. Dopodiché li sostituiamo e otteniamo pertanto il valore di AC e di AB. Questo è veramente un esercizio standard molto semplice ed elementare. Andiamo a vedere gli esercizi proposti, quindi il 50 e il 51. Nell'esercizio 50, al di là della difficoltà di andare a realizzare col teorema di Pitagora i quadrati di 25 settimi di X e di 175, non dovrebbero esserci proprio difficoltà. Magari vi aiutate con una calcolatrice. Stessa cosa nel caso del 51 e sia per quanto riguarda la versione A che la versione B. Per me è più interessante il 51 e quindi diciamo per evitare difficoltà relative al 50 tutto quello che mi serve già è previsto nel 51. Andiamo adesso a invece guardare questo schema che vedete sulla nostra testa. Allora, il primo teorema di Euclide dice che ogni cateto è espresso come medio proporzionale tra la proiezione del cateto e sull'ipotenusa e l'ipotenusa stessa. Questo significa sostanzialmente dal punto di vista pratico che C al quadrato, eccolo C, lo vedete in figura, C, C al quadrato è uguale a S che è la sua proiezione per tutta l'ipotenusa che ha. E viceversa, vedete con l'asterisco qui indicato e voi con l'asterisco se volete la misura invece lineare fate la radice quadrata. Quindi se io voglio C, C è diciamo questo cateto, se io voglio C mi basta fare la radice quadrata della sua proiezione sull'ipotenusa, quindi S, eccola, e poi tutta l'ipotenusa che ha. Quindi per il primo criterio di Euclide, diciamo il primo teorema di Euclide, mi basta fare la radice quadrata della proiezione di C, che è S, per tutta l'ipotenusa che ha. Questo vale anche per B, mentre riguardo H per il secondo di Euclide, abbiamo che H è ottenuto come radice di S per T, quindi più semplice. Adesso dobbiamo utilizzare questo negli esercizi. Mancante un esercizio guida, l'ho fatto io, molto semplice. Vediamo il 109b. Nel 109b, la figura esplicativa si ha che l'altezza è 9x-7. Le proiezioni sono 7x e 10x più 3. Quindi, usando il teorema di Euclide, il secondo, abbiamo che l'ipotenusa al quadrato, 9x-7, è ottenuta come prodotto tra 7x e 10x più 43, che sono proprio esattamente le proiezioni. Andiamo a vedere insieme invece il 108b. Il 108b è analogo perché anche nel 108b basta usare il secondo criterio dato dal teorema di Euclide, cioè abbiamo che 15 al quadrato 15 al quadrato, è uguale a x per, ora non posso più scrivere 34, ma debbo scrivere 34-x. Qui invece abbiamo una figura che è una circonferenza, un diametro e vuole conoscere praticamente il perimetro di questo triangolo isoscelo. Sappiamo che CH, quindi CH è 23,04, HD è 1,96 e quindi la prima cosa che facciamo è calcolare H. Quindi H è uguale alla radice quadrata di CH per HD. Ecco, se fate questo avete immediatamente H e poi per simmetria data la figura vi ricavate tutto il resto. Diciamo che questi esercizi sono un'applicazione dei teoremi che abbiamo spiegato però la tecnica finale è sempre relativa alle equazioni di secondo grado. Grazie. Grazie. Grazie.